Negli USA l'anno scorso ci sono state perdite di denaro di circa 12,3 miliardi di dollari a causa di video contenenti dichiarazioni false, i cosiddetti video deepfake, ovvero sostanzialmente dei contenuti che vanno a sostituire la faccia di chi sta realmente registrando il video con la faccia di un'altra persona presa direttamente da un'immagine scaricabile da Google. Questo vuol dire che io in questo momento potrei avere tutta un'altra faccia, potrei essere vestito in maniera diversa. Beh vi dirò la verità, non è vero, in questo momento ci sono io davanti alla telecamera e io in quanto persona reale voglio cercare di farvi capire qualcosa in più riguardo i deepfake, riguardo cosa sono e cerchiamo anche di capire perché la situazione è così grave e perché si è aggravata così tanto ultimamente e poi vediamo anche perché e se è veramente così tanto facile creare dei video falsi, quindi andare molto semplicemente a sostituire la nostra faccia con la faccia di un'altra persona. Il tutto ovviamente è abbastanza intuitivo capire che può essere molto pericoloso dal momento che io, ipotetico truffatore, potrei prendere un mio video in cui chiedo ai miei follower di andare a depositare un certo numero di denaro, insomma dei fondi all'interno di un conto per produrre degli investimenti, insomma per andare ad ottenere del denaro dopo un certo quantitativo di tempo e poi per rendere tutto più credibile potrei prendere la faccia di qualcun altro, la faccia di Donald Trump, la faccia del presidente Biden, la faccia di qualcuno di autorevole, di Zuckerberg e sostituirla al mio volto attuale. Questo è già successo, è successo in particolare con Elon Musk rimanendo nell'ambito delle persone famose sostanzialmente, il quale improvvisamente si è messo a fare una diretta su un canale ufficiale di Tesla all'interno della quale consigliava ai propri follower, quindi in questo caso agli iscritti, agli appassionati di Tesla, di andare ad acquistare dei fondi insomma per investire nell'azienda Tesla, quando in realtà la piattaforma su cui andavano a depositare il loro denaro era una piattaforma del tutto inventata insomma seduta a stante soltanto per guadagnare dei soldi da poi far sparire sostanzialmente e da non restituire con degli interessi fruttati nel corso del tempo. Insomma questa è la situazione e si sta aggravando sempre di più, le cifre sono davvero esorbitanti e le tecnologie con il passare del tempo sono sempre meno sgamabili, questo vuol dire che sta diventando sempre più complicato comprendere se una persona in base ai suoi movimenti, alla sua mimica facciale, che ne so, al battito delle palpebre, al movimento delle sopracciglia, alla rotazione della testa, bene tutte queste cose non le sa fare soltanto un umano, ora le sa fare anche un AI, le sa fare anche un video qualunque, quindi un nostro avatar generato appunto tramite un computer, tramite un algoritmo, riesce a replicare tutti questi movimenti. Ne è rimasto vittima anche il presidente di Banca Italia, Fabio Panetta, non so se lo conoscete, insomma è una persona abbastanza famosa, che è divenuto protagonista tra molte virgolette di video ingannevoli che invogliavano gli utenti ad investire dei capitali su delle piattaforme fantasma sostanzialmente. Quello che vi dicevo prima è successo con Elon Musk e ultimamente, proprio pochi giorni fa, insomma, è successo anche appunto con questo Fabio Panetta. E la particolarità sta nel fatto che questi video sono praticamente indistinguibili e possono essere diffusi appunto come dei contenuti video classici. Una particolarità poi tra l'altro, e ve ne parlerò insomma anche tra qualche minuto, è che i video per ora, all'interno del sistema giudiziario italiano, per esempio, vengono accettati come delle prove. E allora cosa possiamo fare? Dobbiamo assolutamente comprendere il problema e cercare di capire come evitare e come riconoscere i video deepfake dai video reali, insomma dei video con un avatar vero e proprio. E allora vediamo prima di tutto che cosa sono i deepfake? Di cosa si tratta? Beh, l'avrete già capito? Sono dei video di una persona che parla, la cui faccia è stata sostituita. Io in questo momento potrei sostituirmi la faccia con la faccia appunto di Fabio Panetta, di qualunque altra persona sulla faccia della terra di cui io disponga di una foto. Quindi se io ho una foto di chiunque sostanzialmente, posso andare a sostituire quella faccia con un mio video. E quindi i miei movimenti rimarranno tali, i miei gesti rimarranno tali, la mia voce, attenzione, rimarrà tale, però che cosa cambierà? Cambierà la mia faccia, cambierà sostanzialmente i connotati del mio viso, magari i miei capelli, insomma tutto ciò che poi permette di identificare una persona dall'altra. Per questo il tutto sta diventando anche sempre più indistinguibile e sta provocando numerosi danni, come appunto abbiamo visto i 12,3 miliardi di soldi guadagnati insomma per mezzo di alcune truffe, messe in pratica tramite dei deepfake l'anno scorso negli USA. Insomma stanno diventando sostanzialmente dei video perfetti e irriconoscibili, sta diventando quasi impossibile distinguere i video generati da un AI, i deepfake per l'appunto, oppure un video normale creato da una persona normale e diffuso da una persona normale. E tutto ciò è un problema, è un problema perché come vi ho detto il video, quindi questo strumento viene visto come un qualcosa di inviolabile, di non falsificabile. Se io, come si dice, se io creo un video, se io registro un video durante un'aggressione, durante un omicidio, durante qualunque tipo di reato e lo porto in tribunale, beh quel video mi verrà accettato come se fosse una prova. Se io all'interno di un video vado ad effettuare una dichiarazione qualunque e poi qualcuno porta quel video in tribunale, quel video viene accettato come se fosse una prova effettiva reale al 100%. Beh, tutto ciò è un problema perché ora alcuni casi insomma non sono divenuti chissà che famosi, però sono pronto a scommettere che da qualche parte in giro per il mondo, probabilmente anche negli Stati Uniti stessi, sarà già successo che in qualche caso qualcuno abbia portato dei video deepfake durante un processo come prova che magari hanno anche portato ad incriminare qualcuno. Ecco, tutto ciò ovviamente è incontrollabile perché esistono strumenti che in maniera molto semplici permettono di creare video deepfake ed è anche molto grave perché potrebbe mettere in discussione insomma una lunga serie di processi e quindi di condanne anche a livello giudiziario. Ma noi qui non siamo esperti del mondo giuridico, siamo esperti del mondo della tecnologia e allora vediamo un altro aspetto di questi deepfake e cioè perché la situazione è così grave e soprattutto perché se ne sente parlare soprattutto ultimamente? Beh, ci sono diversi motivi. Prima di tutto, la situazione è così grave perché i video stanno diventando indistinguibili letteralmente dai video veri. Quindi la tecnologia sta avanzando sempre di più e sta facendo passi da gigante e come sempre succede insomma l'uomo è quasi sempre molto frequentemente più indietro del computer nel progredire e in questo caso che ne so nel creare delle leggi, dei regolamenti, delle tutele contro la generazione di questi contenuti. Al tempo stesso i video diventano sempre più reali e diventa anche sempre più semplice generarli. Questo vuol dire che non devo più pagare centinaia di euro, non devo più avere schede video potentissime per creare questi deepfake. Mi basta un semplice sito web, magari una quindicina di dollari se non erro e da lì posso creare il mio video con un limite anche di 60 minuti. Ho provato a fare un esperimento e i limiti erano di 60 minuti se non sbaglio pagando 15 dollari. Nello che io non ho pagato, ho semplicemente dato un'occhiata al sito e ai piani ed effettivamente con 15 dollari possiamo crearci i 60 minuti di video deepfake che sono un sacco se ci pensate perché potenzialmente una pubblicità, un reel, un tiktok durano un minuto. Quindi noi possiamo fare 60 tiktok diversi con 60 facce di persone famose diverse che parlano magari del nostro sito di investimenti, della nostra app, di cashback, che ne so io, tutte cose di questo genere. Insomma la situazione ci sta davvero sfuggendo di mano. E poi soprattutto il video viene visto dalle persone come una testimonianza vera, una testimonianza di cui ci si può fidare al 100%. Quindi anche l'idea e anche il fatto che le persone debbano modificare il proprio mindset, la propria filosofia, passando da un video sicuro al 100% a un video sì ok ma siamo sicuri che sia reale? Beh tutto c'è un po' complicato e questo è anche uno dei vari motivi per cui poi 12,3 miliardi di truffa negli Stati Uniti l'anno scorso sono effettivamente stati rubati sostanzialmente le persone che poi sono cadute in queste frodi perché sono delle vere e proprie frodi. A questo punto io senza stare qui tanto a parlare voglio farvi vedere la situazione, voglio farvi capire effettivamente cosa sta succedendo e quali sono alcuni esempi dei migliori deepfake che io ho visto online. Ecco qui, ci spostiamo sullo schermo, questo è un video che ho trovato da parte di un canale YouTube che a sua volta è un canale di un sito, di un applicativo di generazione di deepfake che fa vedere tutti questi testi, insomma fa capire se davvero la tecnologia in questo caso di questo sito Lip Synthesis non mi ricordo, non so come si pronunci quindi non ammazzatemi per il mio inglese nei commenti e insomma questa piattaforma sta in questo caso facendo vedere uno dei risultati che hanno ottenuto grazie a loro deepfake e ora lo vediamo. Avete visto? Insomma la situazione è abbastanza agghiacciante ed effettivamente il giornalista è riuscito a dire insomma queste frasi in maniera molto molto fedele, anche i movimenti delle labbra erano molto ben sincronizzati. In questo caso cosa è anche stato d'aiuto? È stata d'aiuto l'inquadratura che è un'inquadratura molto bella, molto ben realizzata con un'ottima sfocatura dello sfondo dietro e soprattutto già alcuni dettagli nel video originale sembrano falsi come per esempio i suoi capelli assolutamente perfetti come acconciatura diciamo, il suo auricolare leggermente trasparente in plastica, i suoi occhiali, una buona illuminazione. Insomma tutto ciò è risultato fondamentale per poi riuscire ad ottenere un video di questo genere dove c'è lui sostanzialmente identico, gli occhiali sono identici, i denti sono identici, anche qui l'orecchio, l'auricolare, tutto è assolutamente identico al video di partenza, lo stile della cravatta insomma davvero tutto è stato riprodotto con estrema fedeltà in questo caso e questa è una cosa molto particolare perché noi effettivamente prendendo la faccia appunto di questo giornalista potremmo potenzialmente fargli dire qualunque cosa, anche perché esistono dei siti che permettono di creare degli avatar, degli avatar AI. Questo vuol dire che noi possiamo andare a far dire a delle persone delle frasi, far guardare in certi punti del nostro video, alzare lo sguardo davanti alla telecamera, cose di questo genere e poi tutte queste clip possono essere prese, inviate ad uno strumento, il più popolare dei quali è Sainteesia, il quale poi con tutta una serie di elaborazioni molto lunghe, anche abbastanza costose peraltro, riesce a creare un avatar, quindi sostanzialmente una nostra faccia in tre dimensioni, quindi il modello è un modello 3D del nostro volto che poi può dire qualunque cosa, può andare a replicare anche potenzialmente un nostro tic nervoso, un modo in cui muoviamo la bocca particolare, il modo in cui deglutiamo, cose di questo genere, insomma può andare veramente a riproporre un discorso fatto da una persona in maniera molto molto fedele, anche se quella persona non ha mai avuto intenzione di fare lo stesso discorso e magari neanche ci ha mai pensato, neanche mai detto una parola contenuta in quel discorso. E questo è un po' il vero problema dei deepfake, anche perché la situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che è diventato molto facile creare questi video, sta diventando sempre più comodo, con sempre meno spese, con sempre meno computer potenti di cui avere bisogno, ci sono un sacco di siti online come cloud, che quindi si basano sul cloud e generano i video utilizzando il cloud, esistono un sacco di tutorial online che spiegano come farlo, anche utilizzando dei siti completamente gratis, se magari volete fare qualche test per curiosità insomma, e ci sono anche delle piattaforme che permettono di creare appunto l'avatar virtuale, in questo caso siamo davvero su un altro pianeta perché senza nemmeno aver bisogno del video di partenza e della faccia da appiccicarci sopra, possiamo semplicemente far dire al nostro avatar, al nostro avatar 3D, una serie di frasi che lui non ha mai pronunciato e poi scaricare un video che è pressa poco simile alla realtà. Quindi davvero il tutto è alquanto complicato da gestire e staremo a vedere anche a livello di insomma di legislazione come questa situazione verrà portata avanti. Io per ora l'unico messaggio che posso darvi è quello di stare assolutamente attenti a ciò che vedete online, alle pubblicità, ai video, soprattutto ai TikTok, delle persone famose se vi chiedono qualche investimento, se vi consigliano qualche app di cashback, di che ne so, app di qualunque genere potenzialmente possono essere in qualche maniera affette da questi virus, anche delle app del tutto innocue, che ne so, anche un motore di ricerca molto banalmente perché se poi voi ve lo installate nel vostro telefono e al suo interno contiene un Trojan, quindi un virus che poi vi prende il controllo del vostro smartphone o peggio ancora del vostro computer, beh dovete stare molto attenti perché magari la pubblicità di questo browser verrà veicolata con dei video pubblicati sull'account di Elon Musk, Zuckerberg, tutte persone di questo genere, le quali poi dovranno andare a gestire la situazione e prendere in mano il prima possibile i propri account, ma magari delle persone già ci saranno cascate in questi trucchi. A questo punto vi voglio consigliare un contenuto per approfondire il tema dei deepfake. Ho visto questo video molto interessante del Wall Street Journal il quale ha come protagonista questa ragazza che è andata a creare un suo clone, quindi appunto quello di cui parlavamo prima, il proprio avatar che può fare qualunque cosa. Beh vi anticipo solo che grazie alla sua voce è riuscita ad autenticarsi all'interno del sito della banca, utilizzando quindi la voce prodotta da questo sito, dal sito di generazione avatar, è riuscita a dire il suo nome e cognome con una precisione, con una pronuncia tale da autenticarsi all'interno del, se non sbaglio del call center forse, della banca, non del sito insomma. Perché alcune banche, come anche tante altre imprese, insomma utilizzano la voce come proprio metodo di autenticazione. E state molto attenti perché in questo caso appunto questa ragazza è riuscita a farlo. E poi tra l'altro ho anche fatto il test con un suo amico che ha fatto la voce in falsetto di lei che cercava di dire il suo nome e cognome nella maniera più simile possibile alla voce vera. E in questo caso il sistema ha identificato quel tipo di autenticazione come autenticazione non possibile insomma, proprio perché il modello di voce non corrispondeva alla sua voce vera. Mentre invece l'AI è riuscita a autenticarsi, quindi questo vuol dire che siamo già a livelli piuttosto elevati. Se già un computer riesce a fare il meglio di una persona che imita, seppur in maniera anche abbastanza fedele la voce di un altro individuo insomma. E questo è quanto. Questo è il funzionamento dei deep fake. Come avete visto la situazione si sta aggravando sostanzialmente. Non voglio essere falsamente ottimista, quindi vi invito a prestare molta attenzione e stare molto molto attenti a ciò che vedete online, a tutti i contenuti, soprattutto i video in questo caso, ma anche gli audio, i post soprattutto, che non hanno bisogno di facce insomma per essere veicolati. Quindi mi raccomando, prestate sempre molta attenzione a ciò che vedete e prima di comprare, vendere, caricare soldi, inviare soldi, investire, fate sempre qualche ricerca, cercate qualche recensione online, cercate qualche informazione sull'app che state per utilizzare. Mi raccomando non cadete in questi tranelli perché poi appunto i 12,3 miliardi che sono stati truffati agli abitanti degli Stati Uniti non verranno più restituiti sostanzialmente, quindi prestate molta attenzione. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, seppur un pochino più pesante degli altri, un po' più informativo perché la situazione è importante farla conoscere, ecco. Io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e un appuntamento alla prossima. Ciao ciao!